Nuova partita Vuoi guardare un repilogo di conto e conto finora? Come no? Ciao Luigi Che modesto E migliore giornalista della città E' vero Grande MJ Cerco di essere all'altezza dell'altra donna migliore del mondo Mei Mia zia Sempre più modesto E tempo fa sono stato morso da un ragno radioattivo che mi ha dato dei superpoteri Non posso scriverlo Ehi abbi pazienza sto improvvisando Ho usato i miei poteri per aiutare la città e salvarla da chi voleva distruggerla Come il mio mentore Il dottor Otto Octavius Perse il lavoro a causa di un suo ex collega Norman Osborn Otto si vendicò usando un'arma biologica Alla fine riuscì a fermare Ma ha un caro prezzo Niente male ma Io non sono Peter Parker Esatto Tu sei Miles Morales Hai 17 anni e studi alla Brooklyn Visions Academy E poi? Io ecco Di tanto in tanto aiuto mia mamma nel suo lavoro ad Harlem Lei è la consigliera Rio Morales E... Mi piace una ragazza Lei è spettacolare La ammiro molto E credo sia una delle migliori artiste in città Anche... Io... Sono stato morso da un ragno radioattivo che mi ha dato dei superpoteri Ho imparato ad essere Spider-Man dall'originale Ma ho imparato ad essere un eroe Da mio padre E' stato ucciso da Martin B Durante un attentato Cerco di fare del bene ogni giorno Proprio come mi ha insegnato papà E' difficile A volte non si possono salvare le persone a cui vogliamo bene Neanche con dei superpoteri Ma un vero eroe non si arrende mai E non intendo farlo Non lo so Non riesco a parlare di me senza citare Spider-Man Certo che buono Devi solo... Perché non... Non ti giuro Mamma mia ragazzi Dai vediamo un po' com'è questo gioco Ciao ragazzi Benvenuti a tutti Benvenuti a tutti anche su TikTok ragazzi Eh Oggi siamo qui Spider-Man 2 raga Finalmente è arrivato il giorno Due anni fa Ci siamo Stai bene Ma non tanto Mi fai una promessa? Sì certo Se non funziona Uccidimi Funzionerà Lui ha fiducia nei suoi menti Sai che non mi resta molto tempo Vorrei averlo per salutare Ascolta Non ti lascerò morire Farò qualsiasi cosa Per non perderti Così Si inizia bene La campanella c'è per un motivo Prendete posto Ma chi è questo? Buongiorno ragazzi Da oggi abbiamo un nuovo insegnante nella scuola Una donna Ciao Ciao Io sono No Io sono il Signor Parker Ah lui è Peter Parker E voi siete fortunati Perché questo è il corso di fisica E la fisica spacca Mannaggia la miseria Vi siete mai chiesti come fanno alcuni insetti Uccelli o rettili a camminare sull'acqua? Due parole Tensione superficiale Sabbia Ciao ragazzi benvenuti Questa tensione si basa sulla coesione Nell'equazione la tensione si esprime con gamma Ovvero la forza esercitata parallelamente alla superficie dell'equo Manca iniziamo e c'è già il primo posto FV divisa per la lunghezza L Della linea sopra cui agisce la terza Qualcuno ha Mi Mi serve una mano? Il signor Morales giusto? Sicuro di non poter risolvere il problema da solo? Sicuro È tutto così incasinato All'inizio di sto giorno ragazzi Dio Dio grazie mille per il posto tiktok Francesco grazie mille per il posto tiktok Angelo grazie mille per il posto tiktok Dai ragazzi che voglio vedere un po' come si gioca Su su Ciao ragazzi benvenuti tutti anche su Twitch Ah eccoci qua Dai Libriamoci un po' come Con le ragnatele Su La preside Evans già mi odia per il ritardo di stamattina Bro te l'avevo detto di non tardare Sta tranquillo Non impiegheremo molto Lo spero Perché ho appuntamento per la mia candidatura al college Hai finito il seggio? Non devo iniziare Mi ricordo più come si schiacciava per fare le acrobazie Certo Triangolo Mi ricordo più Ma davanti Eh ma davanti Dobbiamo andare lontano Proiezione ragno Siamo sopra Brooklyn Jameson ha mandato te per il Bugle Ok 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 così Un direttore davvero adorabile Non ci metterai molto a farti rispettare Questo non lo riparavo minimamente Arriveremo Ma cavolo Dobbiamo riuscire a calmarlo E come lo cambiamo? Per fortuna ci sono due Per saltare in oscillazione Grazie MJ Siamo le nostre nuove invenzioni Non esiste E' astento un prototipo Va testata Le hai portate vero? Che cosa stanno cercando di fare? Che cosa avremmo portato? E io posso attaccarmi anche gli elicotteri? Esattamente No no Che disastro Quanto è lontano Schiva Ma l'ho schiacciato il cerchio raga Ma raga ho schiacciato il cerchio Ok 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 E come l'ho attacco Oh mio dio Cos'è? Madonna Oh Carroia Triangolo Cosa sta facendo? Cosa pensava di fare? Ancora arrabbiato dopo tanti anni Marco? Prova un po' di yoga E vum Ed eccoci qua Cioè che cosa pensava di fare contro un ergumeno così? Bella idea Non ho detto che era buona Io scatto di qua Madonna Ehi Usate le scale Salvalo 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 Spiderman Puoi firmare per questa consegna? Sono in arrivo Ci sono Eh Ti metto un R2 per oscillare Raga non mi può oscillare però Ok C'è l'ho Che cazzo Eccolo lì Ah Dai dai Faci si picchia forte Ok Devo solo ricordarmi come si Come si faceva a fare tutto il resto Ma Attacca la mia tela Col triangolo Ok Ok Così si Molto bene Ma che cos'è? Ma certo Presidenti Mi hanno evacuato Ma certo No Quanti sono? Cosa è stato? Niente Ah Finalmente L1 Per rapica Oh la miseria Attacca e difendi Per ricaricare Tieni premuto X Ok Che cazzo Voglio dire Sto tornando giusto ora Torni subito qui Deve valare ai studenti L'avviso Ok Oh Quanti sono? Ma basta Quanti possono essere ancora? Sono quasi Come andiamo? Miles Ha divato la preside Spacchiamo tutto con questo Dai T'ha uccisione istantanea Tu hai solo saltato una lezione Io ho abbandonato i miei studenti Durante un'emergenza Sì Sei fregato Questi non stiamo a parlare Dei suoi studenti qua Stiamo per morire noi Eccoci qua È arrivato il momento di morire Mano trattino un basso bomber Tutto minuto Ho sempre odiato quel nome Lo so che ce l'hai con me Non ha niente a che vedere con te Lasciami stare Voglio aiutarti Ma prima devo farti male Ottimo Direi che il piano ha funzionato alla perfezione Raga È un genio Ma in tutto questo Miles Morales Che cosa sta facendo Niente Siamo morti Non so Vuoi fare qualcosa anche tu O cosa Che tenta di fermarvi O morirà Eh sì Raga adesso sono Miles Morales Scommetto che non è un grande fan Dell'elettricità Vediamo Urca Come fa a essere Come fa a essere A essere proprio dell'elettricità È sabbia Ok Aha No 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 Ho scritto cerchio Raga Ah ok Non potevo Non potevo farci nulla Ok Non potevo fare niente Assolutamente Ok Ti basta? No Ora posso avvicinarmi Ok Posso prendere un po' di sabbia? Ah guarda che Madò raga Ma lo sto picciando con lui stesso Chi è ordinato dell'acqua? Oh mio dio E allora Eccoci qua Che faccio? Non lo sapevo E la madò E dove l'ho buttato A casa mia E comunque è figo raga Pensavo di averti perso Oh non ti libererai di me Ora sta a Genki aiutarti Genki Ti sei? Cosa? È pazzesco Dai Piccialo Piccialo Piccati da solo Perché ti stai picchiando? Perché ti stai picchiando? I bulli facevano così raga Non lo sapevo Ok Certo che inizia il gioco così Ok Perché ti picchi da solo? Perché ti picchi da solo? Torriamo Torriamo su Eccoci Super mega electricità Buono shock Eh ma questo era il pugno del drago raga Eh raga Questo era il pugno del drago Dovrebbe bastare Cioè Passiamo di 40.000 litri Ok Grazie Genki Ok Non dovevate venire qui ragni Porco due Pensi ancora che l'abbiamo messo nel sacco? Sì Forse ho parlato proprio questo Ma che roba figa Nooo Porco due Ti prego schivolo Il serbatoio Oh mio dio Eh ok Ci ha preso il serbatoio Quindi? No Tutto offline raga Spiderman Eh Questo mi sembra che non è Spiderman Volevo solo una vita normale Aia Come chiunque altro Aia raga Ciao ragazzi Benvenuti tutti anche su tiktok Non c'è altro modo Se volete passare anche su twitch Mano trattino basso bomber Punto minuto Pugno di venom Ma che figo Oh mio dio raga Successo Sono finito fuori Tu continua a salire Ci vediamo in cima Quel serbatoio d'acqua È l'unica speranza Schivolo di attacchi Orco due Attacco ragnatela Attacco rapido Sono entrato in modalità uccisione istantanea raga Orco due Ah tutta l'acqua Ah perfetto Quindi se io metto contro l'acqua So qua muore Ok Ok Porco due Questa è la barra della concentrazione Più che altro non sono una barra della concentrazione La barra della concentrazione Si cari i ronde scatti Ok Cura Mi sono curato come un vero ragno Con un medikit E un po' di scudini Oh mio dio Questa cos'è Una lampada Orco due Vai Scappa Vai cicci Cos'è oh Cos'è Colpi di grazia Pam Figa se ti faccio un elettroshock in faccia Fugno di venom Non potevi costruire castelli di sabbia Marco E uno E due E tre Oh quanti sono ancora No Schiva Schiva Attacca Sto andando in centro per coordinare gli aiuti e il personale Genki sta coprendo con la scuola? Sì Ma io facevo wrestling da piccolo Appuntamento con il mio consulente E la preside pensa che io Ascolta Con la preside ci parlo io Ora New York ha bisogno di te Grazie mamma Uff Prudente Mi sono salvato non so come E' chiaro mico Come dice mamma Non posso deludere New York Tu non stai deludendo New York Stai deludendo me Fugno di venom Acqua Ma per ora raga è molto figo come gioco Stai solo pezzorando la situazione Marco Non mi importa No E la madò Che botta mi ha dato Dai ti prego Muoviti a far sbloccare il pugno di venom Madonna che pugno di faccia gli sto dando Orco 2 Pugno di venom No Pugno di venom Madonna Questo calcio qui l'ha imparato da Ogli e Benji E' sporco 2 l'ha rubato Molto bene Ci siamo raga Che mi sono perso Uovo vuole mangiarmi Cazzò è attacco dei giganti Bevo subito Anche lui beve adesso E' fatta Madonna raga E' stato un gattino di un po' di tutto I nuovi giocattoli I nuovi giocattoli Che giocattoli abbiamo Ah Lana verso l'alto Ma che sballo è Tuffo impicchiata Cosa combinerà con tutta quella sabbia Cosa devo fare raga Tuffo impicchiata No 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 Mi serve subito Mimes Sì La vedo Ma cosa sta succedendo Pensare a ottenere il premuto triangolo Ah ok Lana verso l'alto Oh mio dio Che cosa mi sono cacciato Madonna raga ma che casino è Ok col cerchio posso comunque Con due Nessuno ascolta Mark Ma tutti dovranno ascoltare Sam Oh mio dio raga Adesso diamo un cazzotto raga Di quelli che se ne ricorderà Taratan Pugno del drago Arco due È arrivato pure Electro Dai raga E' mo tutti quanti ci sono C'è anche Electro No E' Miles Ma basta Ma scusa ma ragazzi Questo è l'inizio del gioco Ok mi sentito così Oh Pugno di Venom E via Ah è vero raga Una brava situazione per curarti E seguire uno di bastante colpo di grazia In classe La tempesta di Marco sta generando molta elettricità Che succede alla tensione superficiale della sabbia Se aumenti il voltaggio Eeeh Non lo so faccio schifo Pugno rafica Attacco rafica Non resta che scoprirlo Vedo che iniziare il gioco con subito un boss devastante Con i nostri giocattoli Cambio Cambio della guardia Madò bellissimo sto polpo Lo voglio ancora Lo voglio fare ancora di nuovo Devi Via 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 Scalcia in faccia Spera di una volta Falla un'altra volta Super pugni No 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 l'ho deviato raga Questo è brutto brutto Cura Ora o mai più Spider-Man Suoviamoci Ancora due Ho sbagliato tutto Abbiamo promesso di proteggere la città Ok Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ragnatela in faccia Ragnatela in faccia Eh va bene Mi ha preso in pieno raga C'è sempre qualcosa comunque Vai Miles Facci vedere E1 E2 No Eccolo Via Oh sì sì Mi piace questa cosa Il cannone galattico di Junior E via così E dentro l'acqua Signore e signori Abbiamo salvato di nuovo la città Devastandola Ovunque Che poi lui è un uomo di sabbia raga Cioè E dopo che hai fatto tutto questo Cioè E' sabbia Mi spiace Andrà tutto bene Le cose non vanno bene Da tanto tempo Se vi serve aiuto Devi solo chiedere Non puoi chiedere Siete voi due Che ne avrete bisogno Ah Ok Quando vi cercheranno Va bene Ti verrò a cercare Di chi parla Eh eh Di chi parla Effettivamente di chi parla raga Ciao biglia Vabbè se vuoi Seguiamo insieme Seguilo con me Poi quando lo potrai Giocare anche tu Lo giochi Distracciamento Grazie mille Per il fano su TikTok Guarda ma c'è anche Rambo E' realistico questo gioco Penso proprio di sì Eh eh Un destino Che tu non dovrai affrontare Aia Rambo le sta prendendo Sono stato la tua ombra per ore E tu non hai notato nulla Patetica Urca E' andato Rambo raga Comunque Quanta cattiveria Ho chiesto un digno rivale Guardate che tricipite Tutto storto E questo è ciò che mi portate Signore E se provassimo A cambiare terreno di caccia New York Che facile facile ho Accendete i fuochi Inizia la grande caccia Aia Questa raga fa paura Comunque penso che esca per PS4 Sinceramente Marvel Spiderman 2 Grazie a tutti